il 18 luglio 2020 in diretta da Simbario come vedete i giganti questa idea di Pina Tassone quindi adesso Simbario ha i suoi giganti e potranno andare sicuramente in giro anche negli altri paesi Pina è una persona umile ma soprattutto creativa con questa idea geniale ci saluta i giganti di Simbario guardate che meraviglia potrei mettermi anch'io quei giganti dato che sono quasi un metro e novanta ma forse è schimuro Grazie Grazie Grazie